Per strada si vedono sempre più auto Evo, soprattutto le Evo 3 sono davvero molto diffuse e parecchi le definiscono le nuove low cost, quelle che hanno sostituito un po' le Dacia, perché le Dacia all'inizio, quando uscirono, costavano davvero poco. Io ad esempio riuscì ad acquistare la Stepway diesel, con il 1500 diesel Renault, a 13.000 euro. Questo succedeva otto anni fa nel lontano 2016, quando a quel prezzo era possibile acquistare solo una Panda, mentre la Dacia ti dava la possibilità di acquistare un'auto spaziosa e con un motore affidabile, perché alle spalle di Dacia, lo sappiamo tutti, si trova a mamma Renault. Oggi non è più possibile, infatti la nuova Sanderos Stepway costa super giù sotto i 20.000 euro, quella GPL ha tre cilindri, mille, non è più disponibile il diesel e quindi le cose sono un po' cambiate. Ma oggi possiamo davvero dire che Evo si è seduta al posto di Dacia sul trono low cost, spodestando Dacia? Per ora quello che posso dirvi è che a 14.900 euro è possibile acquistare un Evo 3 a GPL, 4 cilindri, ma vi mostro quello che vi sto dicendo, anche perché le cose cambiano rapidamente. Oggi è il 20 luglio 2024 e andando sul sito troviamo questa promozione di Evo 3. Iniziamo dal sito Dacia, visto che prima vi ho detto che la Dacia Sandero Stepway costava super giù sotto i 20.000 euro, quindi ho eseguito una configurazione veloce e qui adesso mi riporta 16.400 euro, però attenzione, sotto troviamo anche una piccola scritta che dice detratto l'incentivo statale di 3.000 euro. Quindi se non avete un'auto da rottamare il prezzo sarebbe di 16.400 più 3.000 euro e quindi sarebbero 19.400 euro sotto i 20.000 euro, proprio come vi ho detto io. Ed eccoci sul sito Evo, qui appare subito la promozione della nuova Evo 3 versione GPL a 14.900 euro. Però visto che mi è parso sul sito Dacia l'incentivo, credo che anche qui c'entri un po' l'incentivo. Infatti dice il prezzo di restino è di 17.900 euro, poi qui è scritto prezzo scontato a 14.900 euro grazie all'eco bonus statale di 3.000 euro. Quindi in poche parole quest'auto costerebbe 17.900 euro. Quindi non 14.900 ma 17.900. Quindi vediamo un po' cosa offre la Evo 3 a 17.900. Troviamo un motore 1.500 a benzina GPL con un cambio manuale a 5 rapporti, questo motore a 4 cilindri, retrocamera in HD, il climatizzatore automatico, un infotentment da 9 pollici, interno impreziositi con inserti in ecopelle, troviamo una ricca dotazione di serie. Insomma da quello che ho capito è che Evo conquista i clienti con le sue auto full optional ma a un prezzo sul mercato competitivo. Abbracciando così una filosofia low cost forse un po' modificata perché all'epoca Dacia offriva auto low cost ma con meno accessori, più essenziali, più pratiche, mentre Evo abbraccia una filosofia low cost un po' rinnovata offrendo più accessori attirando così anche una clientela forse un po' più esigente dei vecchi clienti Dacia. È vero che magari non c'è un motore Renault bisogna vedere un po' i consumi di queste auto però quello che mi incuriosiva è perché le persone comunque erano conquistate da quest'auto. Alla fine sono auto che con un prezzo diciamo della Panda perché non so adesso quanto costa una Panda ma può costare sui 15, 16 mila, mi riferisco al vecchio modello o no alla grande Panda che sicuramente costerà sui 20 mila euro. Comunque a questo prezzo sui 17 mila e 900 euro Evo vi dà un'auto tutta accessoriata. Poi ripeto ci sarebbero da prendere in considerazione tanti altri discorsi, magari riapprofondiremo in un altro video ma io sono sempre del parere che è meglio avere sul mercato più concorrenza anche perché così i prezzi diventano più concorrenziali e dovrebbero essere più bassi almeno ognuno cerca di conquistare il cliente offrendo il proprio prodotto a un prezzo più basso oppure magari al contrario offrendo a un prezzo giusto più qualità più accessori eccetera eccetera. C'è anche un'altra cosa che voglio aggiungere ad esempio per me quando guardo un'auto sono molto interessato alla motorizzazione però ci sono anche persone che fanno magari mille chilometri al mese. Infatti mi ha scritto una persona proprio sotto a un video due o tre giorni fa e diceva che per lui un tre cilindri andava bene perché li percorreva solo mille chilometri al mese. Quindi c'è anche questo punto di vista da considerare queste persone che magari acquistano queste auto per percorrere pochi chilometri all'anno ed è un punto di vista che va rispettato come va rispettato anche il punto di vista della persona che cerca un'auto con un motore che riesca a fargli fare tanti chilometri perché magari fa tanti chilometri all'anno. Sicuramente io non mi sento di attaccare questi marchi anzi ripeto per me è un valore aggiunto avere più marchi perché in questo modo anche le altre case automobilistiche mantengono i prezzi altrimenti forse salirebbero un po' troppo o magari offrirebbero meno optional. Sono curioso di conoscere il vostro pensiero al riguardo, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate delle auto Evo e se qualcuno di voi è proprietario di una Evo può tranquillamente parlarci della sua esperienza nei commenti. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!